e i verbi deponenti come si comportano la formazione del gerundio per i verbi deponenti è analoga il significato è attivo cato loquendi potestatem abet dice cicerone catone cato alla facoltà abet potestatem la possibilità loquendi di parlare loquendi è il genitivo del gerundio da loquor loqueris locutusum loqui l'abbiamo tradotto con di più infinito presente attivo di parlare